È sicuramente un atto di incitamento e anche di speranza allo stesso modo per poter riprendere un'organizzazione normale della nostra azienda che ha tra le sue funzioni essenziali quella della prevenzione. La prevenzione ormai lo sappiamo, è ribadito da tutti, in epoca Covid purtroppo ha subito probabilmente un rallentamento e il rallentamento ha determinato certamente dei ritardi nei confronti delle persone che avrebbero potuto con tempi adeguati poter affrontare patologie che se non prese in carico correttamente e in tempi celeri possono diventare deflagranti nella vita delle persone. Questo è un atto che ci dà l'incitamento a dire ricominciate, riprendete un'attività che in verità noi non abbiamo tralasciato completamente. Vero è che ha subito dei ritardi ma questi ritardi ora cercheremo di compensarli cercando di portare l'azienda in una posizione di essere vicina agli utenti.